Presidente Peppe Ursini, terza sconfitta consecutiva, ma l'Union Fossa Cesia ci ha provato anche oggi all'Aragona, pensando ai tanti problemi, anche quelli extracampo. Quanto è complicata la strada che porta verso la salvezza? Si è fatta molto difficile, certamente. Oggi, per esempio, avremmo anche potuto prendere il punto, non sarebbe stato uno scandalo. Abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo ce ne siamo giocate al vento. La situazione non è facile, noi comunque continueremo a batterci fin quanto possiamo e abbiamo la forza per poterlo fare. Adesso, cosina probabilmente, dobbiamo anche mettere a posto, perché quando succedono queste cose, evidentemente qualcosa non va, quindi bisogna rimettere un po' di cose a posto. Vedremo, a dicembre si apre la finestra del mercato, speriamo di poter prendere dei ragazzi che siano funzionali alla nostra esigenza, perché il problema più grosso oggi che noi abbiamo è questo di mentalità. Noi giochiamo ancora da un po' troppo borghesi, non abbiamo ancora capito che per salvarsi bisogna dare fuori le unghie ai denti e qualche volta anche un po' di bava dalla bocca. E questa roba, purtroppo, non con tutti i ragazzi è stata ben compresa. Provvederemo a farglielo capire. Mister Del Grosso è un filotto piccolissimo, ma due vittorie consecutive in casa vastese non arrivavano da 220 giorni. E questo è un ulteriore passo in avanti della tua squadra? È una statistica che non sapevo e mi fa piacere. Non abbiamo però fatto nulla. Volevamo questa vittoria, la volevamo in casa. Adesso speriamo che iniziamo a trovare un po' di continuità. Anche se, purtroppo, anche oggi è una partita che il primo tempo dovevamo assolutamente chiuderla, perché abbiamo veramente creato tanto, tanto, però ci siamo ritrovati il secondo tempo, soprattutto nell'ultima frazione, negli ultimi 20 minuti, a soffrire. Questa cosa non mi piace perché comunque dovevamo chiudere prima la partita. Poi trovi una squadra che ci crede e ci ha creduto. Un'ottima squadra, ben allenata, perché conosco molto bene l'allenatore. Sono stati degli episodi dove loro magari hanno ricriminato qualcosina. Adesso li rivedremo, però tutto sommato sono contento per questi tre punti. Volevo sottolineare che questa vittoria la dedichiamo al nostro magazziniere Massimo, che purtroppo ha avuto un intervento, quindi la vogliamo dedicare a lui. Insomma, la aspettiamo a braccia aperte qui nello sfogliatoio.